la bambina la bambina ma scusa ma che differenza c'è tra quando sei in ferie e quando non sei in ferie? guarda che sto registrando e tutto agli altri si è quello che mi dici non mi dici serio? non deve arrivare lui da Roma non deve arrivare lui da Roma non deve arrivare lui da Roma non mi dici domande che dove fai la casa? e come fai la casa? e come fai la casa? non mi dici non mi dici è un po' stiota non mi dici mi avete detto un'altra cosa? mi avete detto un'altra cosa? mi avete detto un'altra cosa? mi ha detto un'altra cosa mi avete detto un'altra cosa? sei già in ritardo di un minuto? no no non è ancora 5 minuti come fa? buon appetito mi ha disposto le dà pure le dà corda sempre sai come mi chiamo io? il signor corda e con lui sai come si chiama? Piero è lui che ha messo la prima pietra che Dio si consente la vista l'appetito che ne so no oh finalmente allora a me vuole fare una foto dove c'era Dio Maillardutti non è stato possibile no no quindi da uno cominciava l'altro guarda a me ha fatto tutte le foto la potessi si la sapo mi tocca fare tutto Milena 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 eh sapevo Milena stiamo qua come ecco ecco dai гляma ora ti mi ero perché la sento una roba guardo che sto tipo filmare guarda che sono il filmare guarda che sei dentro a te neve hai scosto ah leanne пошive a me stai sei l'anno sei l'anno che bello stai ma che bello Viva! Viva la compagnia! Perchè era un bravo ragazzo, perchè era un bravo ragazzo, perchè era un bravo ragazzo! Peccato che sia colatò! Perchè si saluta, anche se la c'è parla fra la c'è parla, anche lui e gli altri, è proprio! Ma proprio tutti, non è che figa! Ma scusa chiedono mia, hai mangiato un po' a me che è la buona figlia che ha detto, a me figlia ha detto che è che lei si stia più figlia! mi diceva in casa tua se sarà qualcuno che ti ha figata è mia sorella è la più a Firengela che ti ha l'entro mi ha fatto mi ha fatto mi ha fatto mi ha fatto mi ha fatto